I carabinieri per la tutela ambientale hanno eseguito tra le province di Napoli e Caserta provvedimenti cautelari emessi nei confronti di otto persone, imprenditori operai di una società di Sant'Ammaro a Caserta che si occupa della gestione di rifiuti speciali. I reati ipotizzati della DDA di Napoli nei confronti degli indagati sono associazione per delinquere e illecita gestione di rifiuti. All'operazione denominata Dirty Iron stanno prendendo parte 40 carabinieri del reparto speciale dell'arma partenopea casertana. Nel dettaglio i rifiuti una volta transitati per l'impianto di stoccaggio venivano ripuliti e regolarizzati documentalmente. Tale attività criminosa ha visto il coinvolgimento della Sider Recuperi SRL che in tal senso avrebbe costituito un'associazione a delinquere che aveva come scopo lo smaltimento illecito dei rifiuti ferrosi, stimato in centinaia di tonnellate con conseguenti illeciti proventi pari a 175.000 euro. Sequestrato l'impianto della Sider Recuperi SRL e due autocarri con i quali venivano effettuati illeciti conferimenti per un valore stimato di un milione di euro.